ciao gamers bentornati sul canale di giochenext gen siamo tornati dopo tantissimo tempo su gta 5 ragazzi vi ho voluto portare per tornare un death match a squadre che si chiama matrimonio di fuoco nel quale dobbiamo solo con un fucile a pompa distruggere l'altra squadra in un classico death match ragazzi qua mi stanno già sparando ragazzi qua di fronte c'è qualcuno sicuramente quelli di brutti bastardi ragazzi mi stanno sparando ah mi hanno ucciso ragazzi prima kill però era veramente tanto che non ve lo portavo più sul gioco ragazzi e quindi ho pensato di ecco qua vaffanculo l'ho sparato ma non l'ho ucciso io ho ucciso il mio compagno eccolo qua ma mi ha tolto la kill eccolo qua guardate il bastardo là sopra no ragazzi ma non spara porca puttana non spara guardate quel bastardo lassù no ragazzi non spara ecco qua vaffanculo colpito lo sono riuscito a sparare ragazzi là ce n'è un altro bravissimo il mio compagno che lo ha distrutto ragazzi di fronte mi sa che c'è sì infatti è quello lì ecco qua ucciso bene così prendiamo questo medikit eccolo qua l'ha fatto fuori il mio compagno però anch'io ce l'avevo a tiro eccone qua un altro ragazzi no me l'hanno killato prima che potessi farlo io io purtroppo il personaggio è molto ma molto ma molto lento nel killare eccolo eccolo qua ucciso kill per me bene così mamma mia ragazzi qua ci sta i miei compagni stanno sparando di tutto eccolo il bastardo ecco ragazzi l'ha distrutto il mio compagno con una bomba con il lanciarazzi anzi ragazzi il mio personaggio è lento come non so che a sparare invece questo qua davanti a me ragazzi è velocissimo nooo sono stato ucciso mi ha fatto esplodere non è stato questo qui ragazzi è stato qualcun altro da sopra presumo eh niente da fare ragazzi purtroppo se ho il personaggio troppo basso di rango e quindi hanno cioè facile per loro uccidermi appena mi vedono in velocità io devo puntare più su nascondermi e uccidermi magari quando loro non riescono a vedermi se no per me diventa non dico impossibile ma quasi eccolo la ragazzi l'ho visto eccoli qua in due sono dietro quella macchina ragazzi eccolo qua si killato ragazzi finalmente ho fatto anch'io una kill vaffanculo c'è un'altra kill ecco qua ancora kill vediamo ragazzi ce n'è uno sotto praticamente sotto di noi eccolo lì si ucciso fuori un altro eccolo qua ucciso ucciso anche quell'altro eccolo lì il bastardo nooo ce l'ha fatta ragazzi però ho fatto finalmente anch'io una serie di kill dopo un po' di tempo sono riuscito a farla anch'io una serie di kill eccolo là il bastardo no ce l'ha fatta ragazzi però il mio compagno l'ha vendicato io ragazzi come vi ho detto non avendo il personaggio molto sviluppato è molto lento nell'uccidere quindi vi devo sempre inventare nuovi modi di uccidere i nemici il bastardo ragazzi si è nascosto da qualche parte vedete sono tutti e due qui l'hanno appena fatto fuori e si conclude qui ragazzi deathmatch vincitore mi avevo fallito un uccidio un nemico e un uccidio un nemico entro i primi 30 secondi vabbè ragazzi non importa era da parecchio che non ci giocavo l'importante è che sono arrivato al rango 23 quindi vedete sono un rango bassissimo però io ci gioco pochissimo portandovi vari giochi ecco qui ragazzi abbiamo vinto spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia comunque divertito se è così lasciate un like commentate condividete ragazzi passate dai miei profili instagram giochenexgen underscore i2 in lunga yt youtube oppure passate dal mio profilo facebook dalla mia pagina facebook passate dal mio profilo twitter trovate tutti i contatti qui sotto in descrizione ovviamente ragazzi se non l'avete fatto iscrivetevi al canale fatelo conoscere anche i vostri amici se avete qualcosa da dire ragazzi qualche consiglio da darmi commentate pure condividete il video qui da un giorno di 83 è tutto ci vediamo al prossimo video ciao gamers ciao 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 ciao